Siamo a Castignano, nel primo introterra della provincia di Ascolipiceno, a circa 30 km dalla strada statale atriatica, per partecipare a Percorso Divino 2023. Però Castignano è la città dei Templari, questo è il manifesto di quest'anno. I Templari, guerrieri e provetti agricoltori che sostarono in questa città nel XII secolo, nel viaggio da Roma a Gerusalemme. E qui, quindi questa città, e caratterizzano proprio la vita, la storia e la tradizione di questa città, di Castignano. Per questo, nel mese di agosto, a Castignano c'è Templaria Festival, che celebra questo rapporto privilegiato con i Templari. Però oggi qui i Templari non c'entrano proprio niente, perché il percorso di vino prevede una degustazione. Questi sono i banchetti. I banchetti partecipano una quindicina di aziende vinicole locali. Adesso noi sicuramente qualche assaggio lo facciamo. La manifestazione è appena iniziata, ovviamente non si beve solo, ma ci sono anche punti ristoro che adesso andremo a scovare più avanti, in questa degustazione itinerante. Alla prossima! Buon appetito! il senso di tomare esplodono evitavo armonia preparanza l'amor il treno del santo e poi temer una ritarra il senso di mangiare il senso di mangiare il senso di mangiare in a un'altra buona il senso di mangiare Musica Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.